Dress code, che cos'è e quando è necessario inserirlo. Ciao, sono Barbara, fondatrice del metodo matrimonio inedito. Aiuto le future coppie di sposi a organizzare un matrimonio di successo in modo chiaro, semplice e veloce, guidandoli nella pianificazione, nell'organizzazione e nella progettazione del loro matrimonio. Dress code, tradotto dall'inglese codice di abbigliamento, ovvero un'indicazione che diamo ai nostri ospiti su un dettaglio, su un outfit che devono avere il giorno del nostro matrimonio, viene usato in situazioni in cui è richiesta una particolare formalità oppure si è legati semplicemente a un tema o una situazione particolare. Faccio un esempio, ovviamente, se organizziamo il nostro matrimonio in spiaggia, quindi cerimonie in spiaggia, vogliamo che i nostri ospiti stiano comodi, quindi desideriamo farli stare bene, oppure semplicemente vogliamo che tutti abbiano più o meno lo stesso outfit in modo da dare omogeneità otticamente al nostro evento, chiederemo magari un outfit in lino per gli uomini e magari per le donne un leggero abito di cotone, oppure semplicemente facciamo un matrimonio serale, un'atmosfera molto formale in un bellissimo castello e richiediamo lo smoking agli uomini e l'abito lungo da sera per le donne. Ecco, dove va inserito il dress code? Ovviamente nella partecipazione, nell'invito e quindi indicheremo ai nostri ospiti qual è il dress code del nostro evento. E tu, inserirai il dress code al tuo matrimonio o al tuo evento? Fammelo sapere nei commenti.